Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi siamo qui per il secondo appuntamento con il Maggio dei Libri, quindi hashtag letture e hashtag libertà. Vi lascio come al solito qua sotto il calendario aggiornato con tutti i link ai canali e ai blog che partecipano. Devo dire che ho avuto un attimo a decidere che libro scegliere per questa lettura, perché sì, letture, qua sopra c'è il mondo, l'imbarazzo della scelta. E libertà però è un tema che si può legare a tante cose, ci sono tanti tipi di libertà, però ho deciso di puntare su una lettura semplice ma che mi interessava molto fare. E quindi ho scelto Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Judith Kerr, una lettura sull'olocausto dedicata a un pubblico infantile, e vista dal punto di vista di una bambina, una bambina che scappa dalla Germania perché è ebrea ed è molto interessante. Ma andiamo con ordine. La nostra protagonista è Anna, una bambina che vive a Berlino con i genitori e il fratello, una bambina che vive la vita di tutti i giorni, una bambina di 5-6 anni. Un giorno il papà di Anna dovrà partire per Praga perché un suo amico in polizia gli fa una soffiata che probabilmente gli vogliono ritirare il passaporto. Siamo a pochi giorni dalle elezioni che vedranno vincitore Hitler e il proprio partito e il padre è un famoso scrittore antinazista, quindi ci sono gli interessi per togliergli il passaporto. Il padre dopo poche settimane dice alla moglie di raggiungerlo con i figli. Se tutto andrà bene e dopo le elezioni Hitler perderà le elezioni, loro torneranno indietro. In realtà così non sarà. Nel partire, prendendo quelle poche cose con loro, perché ricordiamoci, loro pensano di poter tornare dopo poche tempo, sperano per il meglio di tornare indietro, Anna lascerà il vecchio coniglio rosa, che è il peluche della propria infanzia sua e di suo fratello, a casa per portare un gioco nuovo, perché dice comunque col coniglio ci ha già giocato tanto. Vedremo poi il viaggio dalla Germania fino alla Svizzera, sentiremo poi l'ansia e la preoccupazione della madre di riuscire ad attraversare il confine, di non essere bloccati. Tra l'altro quando loro partono è la notte in cui viene dato fuoco al Parlamento, quindi vediamo molti pezzi di storia. Mentre loro sono a Zurigo, Hitler vince le elezioni e loro dicono meno male che siamo scappati in tempo, perché poco dopo un amico del padre gli dirà che il giorno dopo che sono state vinte le elezioni si sono presentati i soldati a casa loro per poter arrestare il padre. Noi vedremo poi come sarà poi la vita di Anna e della sua famiglia dopo l'arrivo in Svizzera. Noi vedremo la famiglia che si sposta dalla Svizzera alla Francia, infine verso l'Inghilterra. E' stata una lettura molto interessante, soprattutto nel vedere dal punto di vista di una bambina eventi storici che noi già conosciamo, sentire anche l'angoscia dei genitori del non sapere poi come continuare a vivere. Ricordiamoci che il padre è uno scrittore e la madre è una casalinga, non ha mai lavorato. Quindi vediamo anche la mamma che si applica in lavori domestici che fino a quel momento non l'aveva mai fatti, quindi le prime volte che si mette a cucinare, a rammendare, a far ramaglia, il tutto per poter risparmiare il più possibile. E la difficoltà del papà di trovare un lavoro, perché comunque ricordiamoci che è uno scrittore antinazista, in una Germania nazista che prende sempre più potere. E' stato interessante vedere il punto di vista della bambina, che è comunque la nostra narratrice, quindi vedere come ogni volta entrava in una società diversa, con regole diverse. lo vediamo già solo nella scuola, vediamo la differenza iniziale tra la scuola in Germania e la scuola svizzera. Germania era abituata a essere maschi e femmine insieme che giocavano, in Svizzera erano rigorosamente separati, maschi da una parte, le femmine dall'altra, addirittura non attraversavano la stessa via dentro l'aula. Vediamo poi quando arriva a Parigi, come anche lei e il fratello facciano fatica a imparare la lingua, gli sforzi che fanno, le difficoltà a farsi accettare, perché comunque è una lingua completamente diversa dalla loro e come poi a un certo punto quella lingua diventi un po' loro. E c'è una bellissima riflessione perché per un periodo di vacanze riescono poi ad avere abbastanza soldi da tornare dalle persone che gli avevano affittato casa in Svizzera e ritrovare i loro amici. E la cosa interessante che lei dice è che lei non è più la ragazzina che è partita dalla Svizzera, lei è un'altra persona che ha vissuto altre esperienze in Francia. È stata una lettura molto interessante, sia perché essendo il narratore un bambino e essendo che noi sappiamo già cosa succederà, riesci a tenerti col fiato sospeso. Noi siamo i primi, quando inizia la storia, a pensare, prendi e vai, il tuo padre ha ragione, c'è l'amico del padre che dice, ma no, le cose si sistemeranno, non può continuare così e invece noi sappiamo come si evolveranno le cose, quindi siamo i primi a dire, no, prendi e vai, parti perché le cose diventeranno sempre peggio. È stata una lettura molto interessante e carina, la scrittura è scorrevole pur essendo un libro pubblicato inizialmente negli anni 70. Lo consiglio? Sì, lo consiglio da leggere anche ai grandi, ma ai ragazzi lo consiglio di leggere se dietro c'è uno studio. In che senso? Sì, è per un pubblico giovane, sì è scorrevole da leggere, sì, essendo la narratrice una bambina parla molto chiaramente a un pubblico giovane, ma non è così scontato senza dietro uno studio degli eventi che ci sono intorno. Quindi sì, lei ti può parlare, ti dice le cose che succedono dal suo punto di vista, tu puoi capire, ma se dietro non hai uno studio di quelli che sono gli eventi, ma io parlo di un semplice studio della storia a scuola, forse non riesci a capire chiaramente la gravità di quello che lei vive e di quello che lei ancora non sa. Anche perché questo libro si interrompe nel 1935, noi infatti vediamo due anni di vita di Anna, da quando parte dalla Germania fino a quando partirà per l'Inghilterra, quindi andiamo dal 1933 al 1935, cosa che un pochino mi è dispiaciuta, perché io forse avrei voluto vedere ancora di più la vita di Anna nel momento in cui le cose diventano ancora più pesanti, ancora più gravi. È sicuramente comunque una bella lettura, io la consiglio, è leggera, il giusto, che è una cosa che io apprezzo di questo genere di libri. Parlarti di eventi gravi, forti, però in maniera chiara e semplice e anche forse innocente da un certo punto di vista. Il Coniglio Rosa, come viene detto nell'introduzione, rappresenta quell'infanzia che è andata perduta, quell'innocenza dell'infanzia perduta, quindi non solo per Anna, la nostra giovane protagonista, ma per tutti i bambini che in quegli anni hanno dovuto crescere molto più in fretta di quello che sarebbe stato giusto. Questo era tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, vi invito a leggere sotto il calendario e a seguire gli altri appuntamenti che ci saranno durante la settimana, ma anche quelli che ci sono stati la settimana scorsa e spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!